Ciao a tutti, cosa faremo oggi? Recensione di filati e altri acquisti. Poi vi farò vedere un po' di lavoretti work in progress e un po' di lavori finiti. Allora, sbaracco e vi faccio vedere subito tutto. Allora, iniziamo dal pacco più grande. Ho comprato 400 grammi di questo filato che era uno stock. 70% pura lana, 30% cashmere. Sono in tutto 400 grammi e diciamo che ho risparmiato 60 euro, una cosa del genere, perché a prezzo di listino questi costano tipo 8 euro l'uno. E invece li pagati molto meno. È abbastanza sottile. Qua non lo dice, ma secondo me col 3,3,5 si lavorerà. Sì, più del 3,5 non penso. E vorrei farci una maglietta tipo un sottogiacca, adesso vediamo. Devo ancora pensarci. L'ho preso perché un affare così non me lo potevo far sfuggire. Poi ho preso questo cotone, filo di scozia solare della Mondial. 50 grammi, sono 90 metri. È bello ritorto. Di là non vi ho detto quanti metraggio è, perché non c'è scritto. Quindi, allora. È bello ritorto. Qua dice di lavorarlo col 3,5... Ok. Qua dice di lavorarlo col 3,5, 4,5 d'uncinetto e ferri. Io col 3,5 lo lavoro benissimo questo. Bello lucido, un bel blu notte. 100% puro cotone Egitto Mako. Consigliatissimo. Proprio bello questo, un bel cotone. Poi un altro super mega extra affare che ho fatto. Io qua, poi adesso ho fatto la cake. La Nagatto Feeling. Sono 4 gomitoli, da 50 grammi, 140 metri a gomitolo. Si lavora con i ferri del 4. Sì, anche 4,5 io direi. È un bel verde militare, diciamo. E guardate la composizione, che spettacolo. 70% pura lana, vergine, merino, extra fine. 20% setta, 10% cashmere. Infatti, è di una morbidezza spettacolare. E questo veramente, diciamo, che me l'hanno quasi regalato. Un altro filato, che è sempre della marca di questo qua, bianco, che ho preso sempre dello stesso fornitore. Questo è un bel filato spesso, che secondo me con il 8-9 di ferri si lavora, secondo me. Anche qualcosa in più. Pura lana, 100 grammi. E con questo ne ho due. Sono in tutto 600 grammi. Io ho fatto la cacciottona da 300 grammi, l'una. E mi piaceva un progetto sciarpa con cappuccio insieme, diciamo. Adesso vediamo. Vediamo un attimino, però devo ancora studiare bene cosa faccio. Poi ho preso... Merino extra, morbidone, superwash, pura lana vergine. Questa è veramente uno spettacolo. Se la trovate... Io ci avrei risparmiato tipo 3 euro di gomito. Le ho presi 7. 100 grammi, 180 metri. Voglio farci una maglia. E vi faccio vedere anche quale adesso. 100 grammi, 180 metri. Pura lana vergine. Allora, vediamo dove c'è scritto. Eccoli qua. Ferrari dal 4,5 al 5. Sì, io direi anche 5,5. Perché almeno viene bella morbida, morbida. Perché è un peccato, se no. E questo viola è spettacolare, secondo me. La marca è della Real. SNC. Consigliatissimo, proprio uno spettacolo. E la maglia che voglio fare è questa. Vabbè, questa è la versione estiva. Purtroppo, sono andato a vedere adesso su Ravelry e non c'è più in italiano. Prima c'era italiano e inglese, adesso c'è solo inglese. Non riesco a capire il perché, ma meno male che me lo sono stampato. Mi piacciono questi motivi traforati. Poi, vabbè, naturalmente io farò una manica lunga perché questa è estiva. Però si lavora con ferri del 5,5 e mezzo, quindi andiamo alla grande con questo qua. Vedremo. Vedremo poi quando riuscirò a farle in mezzo a tutti gli altri progetti. Poi, questi due filati che alla fine sono gli stessi. sempre, io la lana merino, la adoro. Lana merino irrestringibile, roses royal, made in Italy. Tinta a bordo, ma non è neanche un bordo. E, sì, forse un pochino più chiaro al bordo. Sì, è esattamente il colore che vedete proprio. E blu notte. Questa, ci sto facendo un cappellino a mio papà. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, Manifattura filati rose sbiella, 100% pura lana merino irrestringibile, 4,5 o 5, io sto lavorando col 5,5. 50 grammi, 87 metri circa. Vi faccio vedere la resa. Se si riesce a vedere, perché col blu è un po' un macello. Vedete che spettacolo. Io sto facendo una costa 6,2. due rovesci e 6 diritti per fare un barretto. E secondo me il 5,5, per la mia mano, eh. Per la mia mano, secondo me il 5,5 perfetto perché viene bello morbido. Col 5,5, che venga un... perda un po' la morbidezza che ha la merino. Ed è un peccato. poi... poi ho preso questa cake che ce l'ho in due o tre varianti di colore epifil, epicapri. Allora... 50 cotone e 50 microfibra e... è morbidissima. Sarà anche per la microfibra, secondo me, ma è un morbido assurdo. 150 grammi, 600 metri. Si lavora con i ferri, 3,5 o 4. Io con i ferri ancora non l'ho lavorata perché non ecco paura, però avendo se riesco a farvelo vedere sono 4 capi non ritorti. Non so se riuscite a vederlo. Eccolo qua. Questo è il filetto. Sono 4 capi non ritorti. La cosa bella di questo è che il lavoro rimane morbidissimo. Però con l'uncinetto è bellissimo lavorarla perché si lavora benissimo. Con i ferri non ci ho ancora provato. Devo provare. La mia puore è perdere i filetti qua e là e... mi dispiace. Quindi devo ancora fare una prova. Per adesso ci ho fatto uno scialle. che però non ho qui a portata. Poi vi metto sotto comunque la mia pagina Facebook che in cui c'è tutte le mie creazioni quindi le vedrete di sicure. Poi Metropol Silky questo è un bel cotone spesso doppio allora 100% cotone con i ferri uncinetto da 4 a 5 io con il 4 e mezzo lo lavoro benissimo 100 grammi 205 metri e con questo ho visto fatta una maglietta estiva spettacolare non è che renda molto sono più accesi i colori qua sembrano più spenti invece sono più accesi proprio il cobaleno e questa è la Metropol della Silky uno spettacolo perché poi non è solo melangiata diciamo è anche puntinata non so se qua la vedete è anche puntinata i vari colori sono puntinati che ne so qua c'è il giallo fucsia qua c'è il capo è uno spettacolo lavorarla questa è proprio veramente proprio bella poi questo era uno stock in poche parole in un saccone di gomite ne ho trovati solo 4 35% bambù 65% acrilica microfibra però è un acrilico microfibra si lavora con ferroncinetti 3,3 e mezzo 50 grammi 162 metri circa troppi callane baby bambù e voi non potete capire la morbidezza seta sembra seta la seta ecco sembra setata è uno spettacolo l'ho trovato i 4 l'ho pagato 1 euro l'uno vediamo cosa ci farò non lo so ancora poi ho preso questo cotone sciocco non so se riuscito a vederlo perché no non si vede e la me sciocco la me non so se si riesce a vedere ma neia allora c'ha ma proprio fini quindi sulla pelle non si sente ma da un bel effetto beige con queste scagliette diciamo multicolor sul verdino bellissimo allora 2,5 e 3,5 io di solito lavoro con il 3 100% cotone 50 grammi 125 metri addirittura la va bene la lavatrice io non è che non ci ho mai provato però io i capi fatti a mano li lavo a mano eccetera fare questo va bene io li ho presi mi sembra 6 etti 2,4,6 6,5 e per la prossima estate ormai ci voglio fare una maglia testiva poi penultimo una bomba di colori aspettate che metto un po' meno zoom così la vedete bene e magari vi ci manca un po' la luce oh così si vede bene è uno spettacolo allora questa l'ho presa sul sito hobby è una twir's deluxe 100% cotone 250 grammi 1000 metri ha voglia farcene di progetti qua io non so io ci farei uno scialle perché do gli scialli poi c'è la cosa furba che ad esempio in questa non c'è e tutte le volte mi ammazzo per trovarlo l'easy start voi avete già il filo da dentro è una bomba uno spettacolo costano costano sono 250 grammi ma costano io ne ho presa solo una per provare la qualità diciamo conto un kings twir's deluxe si lavora con un due e mezzo tre e mezzo di feri tre e mezzo quattro di uncinetto e direi che più o meno più o meno ci siamo ancora non ho lavorato perché diciamo che la tengo a comunare lì qui a fino al prossimo anno perché ci voglio fare un qualche scialle di vedrei che alla fine di sicuro ci farò una scialle per il prossimo anno poi ultimo filato che vi faccio vedere anche il progetto perché è l'avanzino vi faccio vedere solo l'avanzo questo filato si chiama aspettate che devo avere l'etichetta qua a qualche parte eccola lì Yucatan della Maffil 60% nana vergine 40% acrilico ma vi giuro io l'acrilico non esiste mi viene un nervoso perché questo filato è fuori produzione speriamo che lo rimettono in commercio perché è una bomba un po' perché è ritorto benissimo quindi ai feri si lavora troppo bene poi è melangeato è uno spettacolo si lavora con 4,5-5 io l'ho lavorato con 5,5 per farlo più morbido sempre stessa storia sono dei begomi tononi grandi 200 grammi 340 metri della Maffil come abbiamo detto prima allora io ho comprati due quindi da mezzo chilo mi è avanzato questo robino qua e adesso vi faccio vedere cosa ho fatto se ci sta nell'inquadratura guardate che sposto un po' di filati intanto vi faccio vedere questo viene a righe in poche parole questo filato è già è già predisposto per fare la lavorazione a righe tipo jacquard è uno spettacolo questo è il cappello e se notate costa 6,2 come quello blu che sto facendo è proprio uno spettacolo questo mi piace proprio poi questo è non ci starà mai io lo so che non ci starà mai andiamo di allontanare un pochino la visuale shanshinlik una cosa del genere della Valentina Cosciani allora ha questo motivo qua sotto di forellini come faccio a farvelo capire vediamo se così si capisce meglio col bianco sotto vedete qua che ci sono tre forellini poi quattro poi tre poi due poi uno e rincominciamo quindi c'è a parte la lavorazione a coda di drago quindi si inizia con mi sembra tre maglie o dieci maglie no tre maglie si inizia qua tre maglie poi si aumenta sempre e ogni otto giri si chiudono tre maglie all'inizio per fare questa lavorazione qua e vedete com'è è sempre a a righe come cappello perché è proprio il filato così ho fatto un po' di fatica perché il primo era gomitolato in un verso e il secondo nell'altro quindi quando l'ho attaccato ho fatto tanto così e mi sono accorto che invece che passare dall'arancione al marrone passava dal marrone all'arancione e quindi tornava indietro no smonta due file rigomitola sto gomitola enorme alla rovescia e quindi poi ha incominciato il lavoro giusto così da finire da finire giusto tutto il lavoro uguale poi qua alla fine prima di finire di chiudere il lavoro vi fa fare due righe sempre di questi occhielli tipo un punto pizzo non è un punto pizzo perché è molto più facile sono solo gettate due maglie insieme tutto è maglie a legaccio e secondo me anche per i principianti va benissimo maglie a legaccio gettate due maglie insieme a diritto basta finito lì non ci va non ci va tanto io poi l'ho chiuso con la chiusura elastica però non quella diciamo tanto elastica quella è un po' media diciamo quindi sì che è elastica però la mia paura è che tirava e allora ho fatto questa chiusura qua elastica che così siamo più tranquilli poi e questi sono due lavori terminati oggi proprio oggi li ho finiti sono ancora da lavare da bloccare e tutto il resto poi con questa merino qua aspettate che levo questo foglio sotto perché mi fa macelle allora con questa merino qua vabbè naturalmente non bordo sto facendo di sacchi nana da donare a un'associazione della mia città che li regala ai bambini prematuri degli ospedali qua nella mia zona adesso vi faccio vedere si chiama cuore di maglia anche questi sono ancora da lavare perché poi vanno cioè deve essere 100% lana merino extra fine e non lavati e impacchettati infatti ho comprato i pacchetti apposta così rimangono belli puliti sterili e poi vengono dati ai bambini prematuri guardate che che spettacolo poi bisogna lasciare il forellino sotto per i tubicini è bellissimo andate a cercare su facebook anche su internet cuore di maglia in tante città c'è una delegata a cui potete donare tranquillamente questi cappellini cappellini scarpine copertine e tutte queste cosine qua per i bambini secondo me è una bella cosa io dico facciamo tanto per noi e poi almeno facciamo anche qualcosa per gli altri poi un altro progetto finito che ce l'avevo sul manichino quindi ve l'ho lasciato sul manichino è questo è un berretto aspettate che lo levo dal manichino perché mi sa che fa più macello che altro avvio il manichino allora su ravelry ho trovato un pattern con questo punto bellissimo sono dritti rovesci punto finito lì quindi anche i principianti lo possono benissimo fare purtroppo non mi ricordo come si chiama adesso lo andiamo a vedere perché poi quando non lo mettete vedete come poi messo si tira bene il punto e viene così tipo a bandiera è bellissimo e questo è sempre è sempre questa nana merino io mi trovo troppo bene con questa nana merino e mi sono fatto scaldacollo e berretto un altro progetto finito proprio oggi è questa la pochette pellicciosa con la tracollina ho fatto sia i bordini che qua in mezzo il pezzo con il filato lo swan lurex glitter mi sembra che si chiami non è foderata perché mi dispiaceva foderarla e rovinare tutta sta bellezza di come si dice di pelliccia tanto sta pelliccia non fa passare niente non c'è pericolo che cadano le chiavi cade niente quindi è la prima borassa che ho fatto su rete canvas preformata avevo comprato questa rete canvas ma non l'avevo mai utilizzata ancora e allora mi sono messo almeno siamo pronti per l'inverno anche se è ancora a settembre e questa mi ispira proprio allora di filati di progettini siamo a posto adesso vi volevo far vedere degli accessori che ho comprato allora in un mercatino ho trovato questa scatolina tanto carina in latta e io ci metto dentro il metro i segnapunti il segnapunti il contagiri scusate ed è comodissima perché me la tengo qua sulla scatolina e non c'è niente in giro poi questi segnapunti 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 io sono uno spettacolo iaiiaia già la marca è una bomba allora io qua vabbè ci ho messo perché poi questo è la stuccino e quello io mi porto in giro solo questo perché c'è già le forbicine poi due aghi da lana lo stringi punte per la knit però allora vi faccio vedere queste forbicine sono carine erano incluse nel kit la forma di gatto a molla e tagliano sono affilatissime sono veramente io non pensavo saranno giocattoli quasi invece affilatissime e questi segnapunti che sono uno splendore guardate che spettacolo sono veramente a parte comodi perché io gli altri li perdevo sempre quando facevo il giro magari si aprivano questi invece a parte che non sono pericolo che si apri poi sono tanto carini tutti colorati in base al colore mettete il colore in contrasto è fatta e questa mi hanno dato la scatolina c'era proprio il kit su amazon che adesso naturalmente io ho preso l'ultima scatola disponibile quindi per adesso non ce ne stanno più poi un'altra cosa che ho preso io qua vi parlo di in queste ultime settimane allora intanto mi sono sistemato il mio mega scuccio mi sono fatto fare le etichette da un sito che si chiama Doratex non costano molto 50 pezzi mi sembra 20-25 euro e sono proprio carine già belle tagliate voi basta che gli date una cucitura è fatta poi questo astuccio qua sarebbe un portapenne ma secondo voi io ci metto le penne uncinetti cavi qua ci metto quelli che uso di più 80-60 e un metro e 40 che scappano poi qua c'ho gli uncinetti questi sono tutti della Clovers dal 2 al 6 poi c'è anche l'altro lato invece 1-1.5 e 1.75 sono della DMC se li trovate prendeteli perché sono veramente veramente buoni e di qua invece c'ho 6 6.5 7.8 9.10 ferri ne vedete tanti perché io nello stesso spazio ho messo sia le punte corte che le punte lunghe ad esempio questo è il 6 punte corte e punte lunghe così c'ho tutto insieme e non perdiamo niente così partono qua dal 3 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 7.8 9.10 12.15 questo è diverso allora tanti sono della linea Symfony Symfony sempre tutti dell'acnist però alcuni si sono della linea natural perché il 6.5 la Symfony non lo fa il 3 ce l'avevo così quindi l'ho tenuto così e il 12 l'ho dovuto prendere perché non si sa come ho fatto degli altri della linea natural l'ho spaccato la punta facendo una sciarpa non ho idea come magari mi sarà caduto poi qua ci ho messo i tunisini questi qua aspettate che sposto un po' questi qua si attaccano ai cavi dell'acnist dei ferri dall'altro ci mettete il cavo e dall'altro ci mettete il tappino sono comodissimi io mi trovo per adesso un periodo che li uso poco poi ho preso questi che sono a doppia punta corti ma a doppia punta e questi sono comodi per fare lavorazioni a due colori tunisini e due colori e tante volte ci lavoro anche normale perché io con il cotone ad esempio mi trovo meglio con questi con questi qua della knistbrock con quelli della clover e qua ci sono due ultimi numeri enormi e poi ho preso il gioco di ferry per chiudere i cappellini per chiudere i sacchi nanna io ho comprato anche un pacco un micro circolare ma mi trovo male non riesco a lavorare non c'è niente da fare e invece con questi è veramente uno spettacolo poi la cosa bella di questo astuccio che ne so questi non si staccano però sapete che usate i ferry e non usate i come si chiamano qua i tunisini non vi portate i tunisini e vi portate i ferry oppure vi portate i tunisini e non vi portate i ferry ok e qua sotto c'è anche uno scopartimento extra dove ci mette il misuratore per ferry i ferry dove mettere la madre in sospeso forbicine e roba varia segnapunti incendi di ricambio metti caso e questo di solito me lo tengo a casa è difficile che me lo porto dietro perché perché di solito mi porto il ferro che mi serve e basta ho l'uncinetto che mi serve con il lavoro quando magari lavoro in macchina durante un viaggio però mi sono trovato veramente bene e questo è tutto ragazzi vi volevo far vedere un po' le ultime cosine che ho comprato e poi ho sistemato tutti i pattern prima o poi vi farò vedere anche tutti i pattern ho fatto tre raccoglitori uno per maglia uno per tutte le designer Emma Fassio Valentina Cosciani Federica Giudice eccetera e uno solo un uncinetto così è tutto bello ordinato senza che andiamo a perdere un sacco di pattern perché poi io me li stampo mentre caso mi è successo di essere 13 giorni senza internet almeno sono tranquillo che ce l'ho stampato li prendo leggo faccio e mi posso vedere un film intanto e questo è tutto ragazzi io vi saluto mi raccomando spolicionate bene sotto vi lascio il link alla mia pagina facebook così ci date un'occhiata dove metto tutte le mie creazioni se avete qualche domanda su tutto quello che avete visto oggi mi raccomando nei commenti vi aspetto e ciao buona giornata a tutti che è un'occhiata la mia pagina